Alice Faroppa, la FAI, la federazione di autotrasportatori italiani, arriva anche in provincia d'Imperia. In realtà è oltre un anno che è nata questa federazione Savona-Imperia, ma diciamo che dopo il rodaggio partito nel Savonese si comincia adesso nell'Imperiese. Finalmente iniziamo a farci conoscere anche sulla provincia d'Imperia, grazie anche alla collaborazione ConfCommercio. Noi siamo in ConfCommercio su Savona e alla Camera di Commercio d'Imperia. Quindi adesso sbarchiamo ufficialmente con questa prima edizione del corso sul cronotachigrafo digitale e sui tempi di guida e di riposo per gli autotrasportatori, che è un momento che suscita sempre grandi interessi, infatti partiamo oggi, ne abbiamo per diversi sabati, per diverse settimane. E comunque abbiamo tutto un bel pacchetto di servizi, sia sulla formazione che sulla consulenza aziendale, in termini di materia di lavoro e di autotrasporti, per cui poi saremo una figura sempre più presente su questo territorio. Anche perché gli autotrasportatori sono tanti, molti sono padroncini, quindi responsabili direttamente del loro mezzo, della loro attività, e i problemi sono anche molti, di tanti aspetti. Sono anche molti, infatti l'importanza di avere comunque una federazione che su questa provincia, insieme a quella di Savona, fornisca anche non solo delle consulenze e un supporto, ma poi che vada anche in rappresentanza di quelle che sono queste problematiche. Quindi, come diciamo noi che alzi un po' la mano, infatti noi andiamo spesso a Roma e siamo in diretto contatto con ConfTrasporto tutte le settimane, Ministero dei Trasporti, quindi comunque abbiamo un Presidente che è molto presente in questo senso, e appunto mensilmente abbiamo proprio gli incontri con il nazionale. Quindi andiamo a rappresentare quelle che sono le problematiche di questo territorio, insieme a tutte le fai italiane, fino alla Sicilia. Grazie.